Buonasera, allora io ringrazio innanzitutto Francesco Piccolo che ha aperto il Sipario, mi pare che sia il suo mestiere aprire il Sipario, per tutta quell'animazione sociale e quell'insegnamento dell'arte del teatro ogni volta che se ne presta l'occasione. Lo ringrazio proprio di cuore, soprattutto per la sua operazione educativa. E poi il professor Morelli perché io non ho mai avuto una presentazione di questo tipo, così colta, così anche drammatica nel suo genere. Fra le cose che ha detto ho detto che di solito i professori universitari scrivono dei libri su degli altri libri e io non avrei fatto così, ma questa sera vorrei fare proprio così. Vorrei parlare di un libro, il più importante secondo me nella storia occidentale, in cui si è colto, si è colta l'essenza dell'amore. E questo libro che un giorno o l'altro Francesco Piccolo metterà anche in scena, si chiama Il Simposio di Platone. In questo dialogo Platone dice, gli amanti che passano la vita insieme non sanno cosa vogliono l'uno dall'altro. È evidente che non per i piaceri carnali desiderano stare continuamente uno accanto all'altro. È allora evidente che hanno cose da dire che non riescono a dire e perciò parlano in modo enigmatico e buio. Allora, non si deve leggere Platone in modo platonico, tra virgolette, in modo edificante, in modo cristiano. Platone parla in maniera pesante e cattura l'essenza dell'amore nella sua indicibilità. Ma non dice indicibile perché è sublime, perché... no, dice che è indicibile perché è enigmatico. La parola enigma è una parola greca che ha a che fare con la follia. Gli enigmi non si possono risolvere. E in generale qui vale la pena di ricordare che tutte le parole greche gutturali indicano potenze su cui l'uomo non ha alcun potere. Per esempio il fuoco, se è ignos, è il fuoco del fulmine su cui l'uomo non ha potere, da cui la parola italiana igneo, oppure pur, da cui la parola italiana piromani invece è il fuoco del focolare su cui l'uomo ha potere. Le parole gutturali sono parole su cui l'uomo non ha potere, quelle liquide sono le parole su cui l'uomo ha potere. E che cosa c'è prima dell'uomo su cui l'uomo non ha potere? Il mondo degli dèi. Io qui vi devo annoiare per dieci minuti in maniera tale da capire bene che cosa succede tra uomini e dèi perché amore viene qualificato da Platone come un metaxu, snetu kai azanatu, come un intermediario tra i mortali e i divini. Chi sono gli dèi? E che cos'è il mondo degli dèi? Io non so se avete visto qualche tragedia, il prossimo anno Francesco Piccolo ha deciso di fare le baccanti in cui vedete la grande scenografia dell'intervento del Dio Dioniso nella comunità umana. A Tebe Dioniso entra nella città e non appena entrato nella città il re perde la sua regalità, le donne salgono sul monte citareo agitando il tirso, i vecchi si comportano come bambini e l'ordine è sconvolto. A un certo punto il coro chiede ma non si può allontanare il Dio? E dopo un po' di passaggi si risponde no, nessun uomo può allontanare il Dio, bisogna aspettare che il Dio se ne vada da solo. Infatti quando Dioniso si congeda dalla città, nella città ritorna l'ordine. Pensate che nell'ottocento quando i medici psichiatrici congedavano un paziente facendo una prognosi che forse tutto sommato poteva ancora stare abbastanza bene nella società, prima della loro firma scrivevano Dici, Deo concedente. Chi sono gli Dei? Gli uomini hanno pensato che gli Dei fossero o abitassero quello scenario da cui l'umanità si è emancipata e quindi li sentono come il loro antecedente, come qualcosa di estremamente minaccioso e pericoloso, a cui bisogna offrire sacrifici non per ottenere qualcosa ma per tenerli lontani. Il modo con cui gli umani si sono separati dai divini è stato attraverso l'introduzione di quello strumento potente che si chiama ragione e Platone ha ordinato la struttura della ragione di noi occidentali in maniera tale che ancora noi oggi parliamo e pensiamo come Platone ci ha insegnato a parlare e a pensare, ovvero pensiamo secondo i due grandi principi della ragione, il principio di non contraddizione che dice una cosa è se stessa e non altro. E' il principio di causalità che dice che questa cosa accade a causa di un'altra. Sembrano due principi molto semplici e invece tanto semplici non sono, perché che cosa vuol dire dire che questo bicchiere è un bicchiere e non altro? Vuol dire che quando io lo sollevo nessuno in prima fila si mette in angoscia. Perché? Perché crede che io mi comporti secondo la definizione non è razionale di bicchiere, ovvero di uno strumento che serve per bere, ma il bicchiere può essere anche un'arma impropria. E allora le cose non sono decise dalle loro definizioni, non sono finite nelle definizioni. Le cose sono disponibili per qualsiasi uso e per qualsiasi valenza. E la ragione che cosa fa? li definisce, finisce il loro significato in un solo significato. Allora la ragione dice la verità. No, la ragione non dice la verità. La ragione è un'organizzazione di definizioni, di determinazioni, in cui le cose sono bloccate in un unico significato e in maniera tale da consentire due cose fondamentali. la prevedibilità dei comportamenti, per cui se prendo un bicchiere in mano nessuno si agita e soprattutto la garanzia di intendersi col linguaggio. Perché se io dico mi puoi aprire quella porta e colui a cui ho dato l'invito ti tuba perché non sa se quella porta è la porta che mi porta nel corridoio o è la porta dell'inferno. Vedete oscillare qui la follia? E allora bisogna arrivare alla ragione come definizione, come determinazione dei significati. La ragione, lo ripeto, non dice la verità. Fissa i significati in maniera tale da ridurre quella dimensione che si chiama angoscia. L'angoscia è ciò da cui l'umanità si è sempre difesa. Essa consiste sostanzialmente nell'imprevedibilità degli accadimenti del mondo. I bambini provano angoscia perché non hanno ancora i codici per decifrare il mondo. Se voi spegnete la luce nella camera dei bambini, i bambini urlano di che cosa? Di paura. No, paura è un ottimo meccanismo di difesa che individuando il pericolo attiva degli strumenti difensivi. Se vede un incendio o scappo. Quindi la paura è un ottimo sentimento, un'ottima macchina difensiva. L'angoscia no. L'angoscia è la perdita dei riferimenti, è il non sapere dove agganciarsi. E allora i bambini che nel buio vanno in angoscia, dopo è sufficiente accendere la luce o è sufficiente che intervenga quella figura mediatrice tra il mondo a loro sconosciuto e loro che si chiama mamma, la quale le rassicura. L'umanità ha potuto progredire solo superando lo stato dell'angoscia. E l'ha fatto prima, prima che la ragione diventasse diffusa, l'ha fatta prima con i riti. I riti non sono altro che dei codici dove è descritto ciò che è proibito e ciò che è concesso. Un giorno Levi Strauss andò in America Latina, trovò una tribù il cui capo era una donna, si meravigliò e chiese agli abitanti come mai avete una donna per capo. E queste gli risposero perché suo padre gli ha insegnato a parlare. Cosa voleva dire parlare? Voleva dire lei conosce tutti i codici, conosce tutti i tabù, conosce tutti ciò che è permesso e ciò che è proibito. E allora alle cinque della sera lei incominciava a ricordare le donne devono dormire vicino alla terra perché la loro natura è tellurica, gli uomini devono dormire su una macca perché la loro natura è più vicina al cielo, l'uomo che dovesse prendere in mano un canestro fuoriesce dalla comunità dei maschi e va nella comunità delle donne che raccolgono. E tutti questi codici sono strutture d'ordine. Solo che i codici di una tribù funzionano all'interno della tribù, poi fuori da quella tribù non funzionano più. Platone allora dice bisogna trovare una struttura, uno strumento, una configurazione universale. I riti che si concretizzano nei tabù e nei totem hanno una grande forza emotiva. Tutte le religioni si organizzano intorno a delle ritualità che coinvolgono l'emotività e quindi hanno una forte densità emotiva ma sono circoscritti quanto alla loro efficacia perché funzionano per una tribù e non funzionano per un'altra. Funzionano per una religione ma non funzionano per un'altra. Allora bisogna trovare una struttura universale che funzioni per tutti e questa struttura universale dice Platone si chiama ragione. Ragionare vuol dire procedere nella determinazione dei significati delle cose e stabilire dei nessi causali per cui se c'è un evento che io conosco come effetto di una causa di fronte a quell'evento non mi spavento. Se invece non ho questo nesso causale ogni volta che succede quell'evento non so dove collocarlo e questo è un altro produttore d'angoscia. Perché abbiamo fatto questo ragionamento? Abbiamo fatto questo ragionamento perché amore si colloca tra i divini e gli umani e i divini sono i rappresentanti di quello scenario che noi definiamo follia. Eraclito lo dice con estrema chiarezza. Per il Dio è giorno e notte, inverno e estate, sazietà e fame, guerra e pace. Vedete che qui non funziona il principio di non contraddizione? Il principio di non contraddizione dice il bicchiere è un bicchiere e non altro. L'estate non è l'inverno, la guerra non è la pace. Questo dice la ragione ma per il Dio c'è la contaminazione degli opposti e nella contaminazione degli opposti accade l'evento che si chiama follia. Sempre Eraclito dice l'uomo ritiene giusta una cosa e è ingiusta l'altra. Vedete qui che funziona il principio di non contraddizione? La differenza ritiene giusta una cosa e è ingiusta l'altra. Per il Dio tutto è bello, tutto è buono, tutto è giusto. Il Dio non misconosce le differenze che la ragione faticosamente instaura. Gli dèi subiscono delle metamorfosi, non rispettano neppure il principio di identità. Zeus è ad un tempo il padre degli dèi, al tempo stesso è toro, è fulmine, lampo. Ma anche il Dio cristiano, nella misura in cui riconosciamo l'onnipotenza, diciamo che può fare una cosa e è il suo contrario. Gli dèi sono sempre stati pensati come gli antecedenti dell'umano, come ciò da cui l'umano è uscito e la rappresentazione del mondo degli dèi non è altro che la rappresentazione in grande di che cosa? Della follia che ci abita. Ciascuno di noi è folle e la nostra specificità, la nostra differenza, ciò per cui io non sono tu, ciò per cui io sono diverso da un altro, non è dovuta alla ragione. Dal punto di vista della ragione siamo tutti uguali. È dovuto invece a quel nucleo specifico di follia che è la modalità che ci individua. Una follia che noi riusciamo a tenere la bada finché ci riusciamo e che talvolta taluni non riescano a tenere la bada e queste li chiamiamo folli. Bene, amore sta in mezzo alla nostra parte folle e alla nostra parte razionale. Mettaxu tra il mondo degli umani che sono il mondo dove è stata inaugurata la ragione e il mondo degli immortali, il mondo degli dèi, che è il mondo della follia. Bene, Platone dopo aver organizzato la ragione, dopo aver fissato il principio di non contraddizione al principio di causalità, dopo aver dato i cardini della struttura razionale, ci dice i beni più grandi ci vengono dalla follia, naturalmente data per dono divino. E altrove la follia dal Dio proveniente è assai più bella della saggezza umana. E come mai? Come mai? Sapeva benissimo di aver organizzato uno strumento per intendersi e per prevedere i nostri comportamenti. Ma non è che con questo strumento noi possiamo creare, inventare la storia, fare opere d'arti, ideare, no, tutto ciò viene dalla follia che ci abita. E questa follia dice, dice Platone, io conosco quattro follie, c'è la follia della profezia presieduta da Apollo e il profeta è colui che vede oltre il presente e oltre il presente e vedere oltre il presente e parlare oltre il presente significa non avere in mano dei dati, ma di intuire a partire dal dato ciò che accadrà. Non c'è nessuna garanzia scientifica, né tantomeno razionale, perciò è follia. Poi c'è la follia della iniziazione. Questa è stata una follia che è stata recepita anche dalle religioni, anche la religione cristiana con i suoi sacramenti interviene là dove c'è un momento di crisi. Il primo momento di crisi è la nascita stessa, quando si parla da una condizione simbiotica ad una condizione individuale, il battesimo, dove ci si separa dal corpo della madre e si assume una madrina e un padrino, nel senso che occorre una separazione, occorre una lacerazione, occorre una divisione. Poi c'è la cresima che si dà in età adolescenziale, in fondo quando inizia la sessualità che sconvolge la visione del mondo che si aveva prima, perché l'evento sessuale erotizza il mondo e non è qualcosa che si aggiunge alla visione del mondo che si aveva, ma è qualcosa che obbliga a ricomporre l'intera visione del mondo. Ecco perché gli adolescenti sono sostanzialmente in crisi. C'è una crisi fisiologica. Freud dice per esempio che la scuola non deve essere un giudice della loro vita, perché le trasformazioni psicologiche che gli adolescenti devono affrontare sono tali che bisogna trattarli con una certa cura, perché sono sostanzialmente a rischio nel frattempo, mentre ricostruiscono la visione del mondo rispetto a quello che avevano precedentemente. Il matrimonio è un altro sacramento, perché si passa dalla vita individuale a quella duale. La morte prevede un altro sacramento, perché non è facile neanche morire. Ho citato i sacramenti per dire quei passaggi esistenziali dove si va in crisi. Crisi è una parola greca che viene da crino. Crino vuol dire giudico. Si va in crisi quando il sistema di giudizi che avevamo non funziona più rispetto a quanto accade nel mondo, rispetto alle nostre trasformazioni. Allora bisogna ricomporre il giudizio. E poi, dice Platone, c'è una terza follia che è la follia delle muse, da cui protettrice dei poeti. Perché i poeti? Perché i poeti sono folli. Perché sono folli? Dice Platone, perché non tengono le parole nell'univocità del loro significato. Quando Leopardi dice, dimmi che fai tu luna in cielo, dal punto di vista logico-razionale e sappiamo già la risposta. Che cosa fa la luna in cielo, gira intorno alla terra e basta. E che senso ha chiedere che cosa fa la luna in cielo? Ha senso solo se io trasgredisco il principio di non contraddizione e dico non la luna e la luna e non altro, ma dico la luna e la luna e anche qualcos'altro. Ad esempio un'interlocutrice alle mie interrogazioni. Vedete qui l'oscillazione di significato? Là dove c'è oscillazione di significato siamo già ai margini della ragione e negli sconfinamenti della follia. La poesia è folle, ma la più alta e la più eccelsa, dice Platone, dalle follie è la follia d'amore. Ne parla nel simposio in che modo? Ne parla in questa maniera. Dopo il simposio c'è un signore che si chiama Gatone, che fa una bella cena. Le cene erano a tema, si doveva discutere di qualcosa, non è come da noi che si fanno chiacchiere morte. E duravano anche tutta la notte. E Agatone invita alcuni suoi amici, invita Socrate. E Socrate nell'avviarsi a casa di Agatone viene colpito da un attacco di atopia. Si ferma immobile sotto un portico. E cos'è questa atopia? I suoi amici, tra cui Alcibiade, che era il generale dell'esercito greco, allora i generali erano giovani, perché la guerra si faceva corpo a corpo, mica potevi metterli un generale vecchio, no? I vecchi facevano i soldati, Socrate era un soldato di Alcibiade. Alcibiade arriva a casa di Agatone, Agatone chiede, ma dov'è Socrate? Alcibiade dice, sì, dai, è stato colpito da un attacco di atopia, mi ricordo che anche durante la guerra a Salamina era rimasto fisso 24 ore su 24, suscitando l'elarità di tutti i soldati, ma non ti preoccupare, tra un po' si riprende e arriverà. Gli psichiatri si sono buttati a pesce su quest'attopia e hanno stabilito che fosse epilessia, non era epilessia, perché l'epilessia era nota ai greci, l'aveva individuata Ippocrate un secolo e mezzo prima di Socrate. La parola epilessia è una parola greca. Atopia, usiamola nella sua valenza simbolica, in greco topos vuol dire luogo, atopos, fuori luogo. Se vuoi parlare delle cose d'amore, devi dislocarti dal luogo della ragione. Non puoi dal luogo della ragione parlare delle cose d'amore. E lì Platone, cioè Socrate entra nella casa di Agatone, ciascuno degli invitati fa il suo discorso sul suo amore, poi comincia anche Socrate e dice una cosa importante, dice voi sapete che io non so niente, però una cosa la so, so intorno a ta erotica, intorno alle cose d'amore. Ma non dice so, dice di quella cosa ho proprio episteme. Episteme è una parola che noi traduciamo con la parola scienza, ma non c'entra niente perché noi con la scienza pensiamo a altre cose. Episteme invece è quel sapere che sta in piedi da solo, come una colonna, istemi e pi, sta su da sé. E cosa vuol dire un sapere che sta su da sé? Sì, perché ci sono un'infinità di saperi che non stanno su da sé. E Platone ne fa l'elenco, per esempio i discorsi dei sofisti non stanno su da sé, ma stanno su su falsi ragionamenti, su falsi sillogismi. I discorsi dei rettori non stanno su da sé, stanno su perché catturano e compiono una sorta di emozione degli affetti. Ne abbiamo avuto un'esperienza anche noi, no recentemente. agente entusiasta di qualche rettore, di qualche affascinatore. Ecco, questi non sono discorsi che stanno su da sé. Neanche quelli dei preti stanno su da sé, perché, dice Platone, i sacerdoti si appellano ad un'autorità divina, parlano ex autoritate, non parlano perché il loro ragionamento sta su da sé. E Socrate dice, io che non so niente, ho un sapere che sta su da sé. E questo sapere che sta su da sé si chiama ta erotica, altrove, ta afrodisia. Ma mi interessa questo concetto che Socrate non sa niente. Non sa niente perché i filosofi non sanno niente, nel senso che non dispongono di un sapere. I sapienti dispongono di un sapere, gli uomini di religione dispongono di una dottrina. E la loro mentalità è che noi che possediamo il sapere lo trasmettiamo a voi che non lo possedete. Ecclesia docens, ecclesia disens. Questo metodo, che io chiamo catechetico, dove io ti insegno, è il modo su cui ho costruito la nostra scuola, per esempio, dove uno insegna e l'altro impara. Forse oggi bisogna fare così, perché non è che si può incominciare da capo ogni volta a scoprire il sapere. Cioè è un sapere già costituito e va trasmesso. E però in questa trasmissione passa il concetto che la verità sia costituita da qualche parte e basta trasmetterla. Mentre l'ipotesi di Platone e anche di Socrate è che la verità dimora in ciascuno di noi. incrostata, malmessa, confusa, che sono poi le nostre opinioni. E dice Socrate, che deve fare il filosofo? Deve purificare, tirar fuori questa verità da tutta la confusione di idee, di opinioni, di sentimenti che la rendono irriconoscibile. Come la statua di Glauco, che nel fondo del mare è stata riempita da conchiglie, cespugli, erbacce, al punto che Glauco non assomiglia neppure più a se stesso. Questo significa pensare che la verità dimori negli uomini e vada semplicemente tirata fuori vuol dire una fiducia enorme nell'umano. mentre l'impostazione religiosa tipo San Paolo che pensa agli uomini come vasa recepcionis, come vasi da riempire, questa invece prevede una sfiducia nell'umano. Nel senso che gli uomini devono semplicemente accedere alla verità ma dentro di loro non ce l'hanno. Ecco, questa differenza va tenuta presente. Ricordatevi, i filosofi non sanno niente ma sono molto abili nel capire se quello che sai tu sta in piedi oppure è frutto di suggestioni, opinioni, falsi sillogismi, effetti ritorici, autorità. Capite questa differenza? È molto importante. Bene, Socrate che non sa niente lui dice che il suo lavoro sapete qual è? È quello con la nocca delle dita di tastare i vasi per vedere se questi vasi sono di vero bronzo oppure no. Se i tuoi pareri, se le tue idee stanno in piedi oppure no. Questo è il compito del filosofo. Non è di trasmettere una dottrina ma è semplicemente quello di indagare se le opinioni che tu hai dentro puoi esporle e ci si mette a vedere se stanno in piedi. Bene, dice Socrate io che non so niente una cosa so le cose d'amore e chi te le insegnate? Dico, chiedono una donna. Anche qua non è una cosetta da quattro soldi perché voi considerate che la filosofia è nata in un cerchio tutto maschile, no? Non c'erano donne tra i filosofi alla scuola di Platone e neanche a quella di Aristotele. e perché la donna nelle cose d'amore? Perché c'è bisogno di introdurre questa figura tenendo presente che poi i greci non avevano neanche un gran rispetto delle donne, no? Aristotele ne parla come della materia che devono ricevere dal maschio la forma concetto non troppo evoluto ecco ma perché la donna perché la donna abita quel quel confine tra la razionalità dove gli uomini maschi sono stabilmente piazzati quando sono stabilmente piazzati e l'irrazionale vivono questo confine vivono questo confine la loro struttura mentale non è solo razionalità accanto alla razionalità c'è una precomprensione della situazione che avviene attraverso strumenti che razionali non sono quindi il femminile smargina nella follia dopodiché non tutte le donne smarginano ma tendenzialmente il femminile ha questa configurazione e allora la donna insegna le cose d'amore e cosa ti ha detto questa donna? ah mi ha detto che in occasione di un banchetto che si è tenuto per il compleanno di Afrodite intorno a quel banchetto si erano costituiti dei poveri che vedevano di raccogliere quanto cadeva dal tavolo come sempre accadeva ancora nel nascimento se guardate i dipinti dei banchetti ci sono sempre dei poveri che sono lì ad aspettare gli avanzi e tra questi poveri che aspettano gli avanzi c'è una poveraccia che si chiama penia che in greco vuol dire povertà e un semidio che compare solo in questo dialogo di cui non si ha nessuna notizia nello scenario dell'Olimpo che si chiama poros i due mangiano qualche casa dal tavolo bevono si ubriacano fanno l'amore e nasce Eros origini miserrime rispetto alla mitologia greca che faceva Eros figlio di Afrodite la dea della sessualità e figlio di Ares il dio della guerra dell'aggressività che non era neanche sbagliata questa configurazione perché viene ripresa per esempio anche da Freud nell'inconscio di Freud che cosa c'è nell'inconscio secondo Freud ci sono le due grandi matrici che servono all'economia della specie che sono la sessualità che serve per la procreazione e l'aggressività che serve per la difesa della prole quindi Afrodite e Ares no Platone cambia la genealogia povertà e Poros Poros cosa vuol dire? chi lo sa cosa vuol dire? qualcuno in contraposizione trattandosi di povertà lo chiama acquisto io penso che Poros Poros è il nome con cui in greco si dice via la via la strada via Poros ecco può essere anche Poros la via d'uscita da questo stadio di povertà ma che significa che Eros è figlio di povertà e se ne va a scalza di notte senza nutrimento sotto i portici senza vestiti nudo indigente porta tutti i tratti di sua madre dice Platone e cos'è povertà? e qui Platone ci dà la definizione dell'amore l'amore è mancanza l'amore è mancanza non è possesso è povertà è quello che noi traduciamo con la parola desiderio desiderio è mancante io desidero quello che non ho non quello che ho quello che ho me lo godo quello che non ho lo desidero e la mancanza è il tratto costitutivo del desiderio mi manca qualcosa desiderio è una parola interessante anche in italiano si sono fatte molte etimologie la più carina ma è falsa è quella di Tomaseo secondo cui il desiderio opera un varco tra i sidera e passa attraverso il cielo delle stelle fisse tanto è forte il desiderio che riesce anche a sbaragliare l'ordine del cosmo no desiderio è una parola molto più modesta la ritroviamo nel De Bello Gallico di Giulio Cesare dove sapete come avvenivano le guerre nell'antichità si combatteva di giorno perché di notte non si vedeva e alla fine al tramonto si entrava tutti quanti nell'accampamento e mica tutti rientravano di quelli che erano usciti al mattino qualcuno era morto e qualcun altro era disperso e allora si mettevano delle persone al confine dell'accampamento in attesa sotto le stelle i desiderantes quelli che passavano la notte sotto le stelle in attesa che rientrassero quelli che non erano rientrati se alla mattina non erano rientrati si davano per morte e si ricominciava a combattere ma questo cosa sta a dire che anche qui ritorna la figura della mancanza quelli che non sono ritornati quelli che sono attesi il desiderio è un'attesa è una mancanza è una carenza non è un possesso ciò che si possiede lo si gode ma non lo si desidera il desiderio prevede una carenza e e cos'è la carenza di tutte le carenze a questo livello e dice Platone disse Platone o Socrate perché il discorso lo fa Socrate a scriverlo a Platone è che l'io che è la versione psicologica di quello che prima abbiamo chiamato ragione la nostra parte razionale non è in grado di disporre di amore non ha potere su amore noi non possiamo disporre di amore è amore che dispone di noi disordinando la parte razionale e come avviene questo disordinare la parte razionale attraverso una contaminazione con la dimensione folle e infatti qual è la funzione di amore dice Socrate la funzione di amore è quello dice di stare tra mettaxu gli dei e gli umani e si fa interprete il suo compito è di interpretare le parole degli dei che sarebbero incomprensibili per gli umani e di tradurre le parole degli umani che sarebbero incomprensibili per gli dei tradotto fuori dal linguaggio mitologico amore traduce il linguaggio razionale alla nostra parte folle e il linguaggio della nostra parte folle e della nostra parte razionale amore fa da mediatore tra queste nostre due parti la razionalità l'io in chiave psicologica e la follia che ci abita il cui linguaggio non è codificabile con gli strumenti della ragione queste cose la saggezza popolare le esprime con con quella con quelle espressioni popolari che dicono con te perdo la testa mi fa impazzire che cosa sono queste frasi sono frasi con cui si sta dicendo che in amore o fuoriesce la nostra follia o se no non siamo in una condizione d'amore o siamo in grado di realizzare quella atopia quella dislocazione dalla parte razionale o non siamo in una condizione d'amore coloro che fanno l'amore sorvegliando se stessi e l'altro non stanno facendo l'amore l'amore prevede uno sconfinamento della razionalità e un'emersione della propria parte folle e allora qui arriviamo al punto più tragico forse più pesante della situazione non si fa l'amore tra me e te io faccio l'amore con te perché tu hai intercettato la mia follia e solo grazie a te io posso accedere alla mia follia e grazie alla fiducia che ho in te posso pensare di riemergere dalla mia follia perché la follia è più potente della razionalità la follia travolge Dioniso dissolve la città e il pudore non è una faccenda di vesti sotto vesti il pudore è che io mi metto a nudo di fronte a te guardandoti credo che tu mi possa portare alla mia follia perché l'hai intercettata puoi portarmi a farmi conoscere la mia follia perché l'hai intercettata e se non non intravedo questo tuo essere il riflesso della mia follia non facciamo l'amore certo poi si fa l'amore anche a prescindere da questo ma quella è idraulica e non c'entra niente con l'erotica l'erotica è la visualizzazione della follia dell'altro anche Dante quando va all'inferno non ci va da solo ci fa accompagnare nessuno di noi è in grado di entrare nella propria follia ed essere sicuro di venirne fuori ci vuole sempre un mediatore e quindi l'amore non è tra me e te ma tra la mia parte razionale e la mia parte folle grazie a te si capisce questa cosa? del resto anche quando gli innamorati dicono solo lui mi capisce che cosa sta dicendo che lui ha intercettato la mia parte folle e attraverso lui io posso accedere e per effetto di questa conoscenza della follia per effetto di questa immersione nella propria follia che avviene per via erotica perché non si può entrare nella follia con strumenti razionali si resta fuori dalla follia amore è metta su e sta in mezzo dalla parte razionale alla parte folle e qual è la funzione dice Socrate la funzione è quella di mia madre la madre di Socrate faceva l'allevatrice aiutava a tirar fuori i bambini dal ventre i materni lo stesso fa amore amore maieutico chi entra in una storia d'amore qualunque sia la sorta di questa storia d'amore che vada bene che vada male non esce più come era prima perché nella storia d'amore è stato contaminato dalla sua follia e questa contaminazione ha riconfigurato il suo io la sua dimensione razionale se vogliamo nella vita trasformarci dobbiamo entrare nella storia d'amore perché questo ingresso ci fa conoscere ci fa conoscere ci fa assaporare ci fa vivere non è una conoscenza quella della follia ci fa assaporare la nostra follia e quando ne usciamo non siamo più quelli di prima sia che l'amore vado bene sia che l'amore va male sia che si concluda nel dolore sia che si concluda nella gioia l'amore è generativo ci genera non solo genera figli ma genera soggettività nuove perché intrise di quella follia a cui prima non si aveva accesso e a cui si può avere accesso solo attraverso la mediazione di amore amore trasforma genera e in questo modo una volta che abbiamo tradotto le parole della follia alla ragione quelle della ragione alla follia una volta che le abbiamo contaminate una volta che la follia in qualche modo ha ricolorato la nostra parte razionale o egoica che cosa succede abbiamo realizzato amore sì finché non l'abbiamo svelato tutto siccome la nostra follia è abissale amore può continuare a svelarci questa dimensione folle che ci costituisce e qui Platone ci racconta una storia molto bella anche se truculenta nella sua immagine diceva ciascun uomo non è un uomo ciascun uomo è il simbolo di un uomo la parola simbolo in greco vuol dire mettere assieme ballen vuol dire gettare syn insieme syn ballen vuol dire mettere assieme come per esempio la parola diaballen vuol dire stabilire la massima distanza dialogo per esempio non è una cosa tranquilla è una vera contrapposizione tra opposti è una guerra a livello di parole diavolo diavolo è il massimamente lontano avversario di Dio diametro insegna la massima distanza tra due punti della circonferenza la ragione è diabolica perché determina i significati li fissa li separa compie delle differenze il bicchiere non è la bottiglia il bicchiere non è un'arma impropria i bambini nascono nella contaminazione di tutti i significati i bambini sono sempre a rischio perché non sono ancora arrivati alla ragione cioè alla dimensione diabolica della ragione che dice il bicchiere il bicchiere non altro per cui se un bambino prende in mano un bicchiere viene subito alla mamma portaglielo via perché non si sa che cosa farà di questo bicchiere perché non è ancora arrivato a dire il bicchiere il bicchiere non altro si capisce questa cosa e noi nasciamo nella follia e ci addomestichiamo alla ragione intorno ad una certa età ma senza che la follia ci abbandoni e dobbiamo tenerla con cura la nostra follia prima perché è ciò che ci consenta ogni ideazione ogni creazione ogni possibilità di fare l'amore e dall'altro dobbiamo anche stare in guardia perché la follia è una potenza che travolge come gli dei sono più potenti degli uomini alla stessa maniera la parte folle è molto più potente della parte razionale prendete un ragazzo in crisi e ditegli ma ragione può ragionare perché è travolto dalla dimensione folle che il cambiamento di visione del mondo gli richiede folli sono i discorsi degli innamorati non sono discorsi razionali dal punto di vista razionale sarebbe sufficiente che io ti dico ti amo e si è capito tutto dal punto di vista della ragione e invece no gli innamorati non si accontentano del significato razionale del ti amo devono sapere come si ama perché si ama a che livello si ama che coincidenza c'è tra questa dichiarazione dei comportamenti ma che cosa voleva dire quella fanasi l'amore affabulatorio perché vuole andare oltre il puro significato logico della parola ti amo vuole capire di più e questo è possibile solamente nel linguaggio duale nel linguaggio duale voi la follia la potete vedere tranquillamente perché io capisco che avete una certa resistenza a ritenervi folli però è sufficiente che si vada a letto e si incomincia a sognare e in quei sogni non funziona più il principio di non contraddizione voi nel sogno ci siete non ci siete siete maschi siete femmini siete adulti siete bambini non funziona più il principio di causalità perché sono gli effetti che producono le cause non funziona più lo spazio perché un sogno incomincia all'impero romano e finisce a New York non c'è più il tempo tutto è sballato perché con l'addormentarsi dalla coscienza dalla parte razionale viene fuori lo scenario dalla follia che siamo perché gli psicoanalisti si occupano dei sogni perché è la messa in scena la tua specifica follia e alla mattina per riprenderci non è che la cosa avviene immediatamente se ci fate caso l'ora più rituale della giornata è proprio la prima ora in cui voi non governando ancora voi stessi perché state riprendendo la vostra parte razionale vi affidate al rito come primitivi fate le stesse identiche cose tutti i santi giorni appena svegli cioè vi muovete in terza persona come dicono a Milano conserva la regola che la regola ti conserverà ecco la regola la regola si fa colazione si va in bagno si fanno quelle cose tutti in un'associazione ordinata identica perché state riacquistando la consapevolezza non solo la follia funziona al singolare quando ciascuno parla con se stesso fa di quelle associazioni apre di quegli scenari che si vergognerebbe immediatamente di mettere in pubblico le associazioni che si fanno da soli il soliloquio dell'anima è un discorso folle tant'è che ci vergogneremmo di raccontarlo ad alta voce la ragione funziona al plurale quando si è in pubblico quando si è anche all'osteria quando si è insieme si parla secondo ragione cioè in modo impersonale qui la follia viene tenuta a bada il plurale è il luogo della ragione naturalmente se si beve troppo accade quello che Platone dice nel simposio o in oseisi aleseia nel vino c'è la verità il vino veritas non è una frase popolare di Platone c'è la verità cioè vieni fuori quello che sei tu davvero al di là delle maschere razionali ma c'è quel luogo privilegiato che solo i greci possono capire bene perché i greci sono stato il popolo più intelligente mai apparso sulla faccia della terra oltre al singolare al plurale avevano messo anche il duale perché perché il duale è quel linguaggio tra due amanti i due amanti non sono a livello razionale sono lì al confine tra le rispettive razionalità e le rispettive follie e il loro linguaggio si carica di valenze simboliche continue questa bottiglia è a partire a tutta la serie delle bottiglie è una bottiglia di acqua minerale supponiamo che sia di vino che meglio per essere nel tema del simposio ma se questa bottiglia è quella che io ho bevuto con te in quella scena d'amore questa bottiglia fuoriesce dal significato di bottiglia diventa qualcosa di particolarmente simbolico per cui possiamo buttare via tutte le bottiglie ma non quella bottiglia vedete questa eccedenza di significato per cui la bottiglia e la bottiglia manche e là dove c'è un manche stiamo già fuori dall'apparato razionale bene nel linguaggio simbolico si dicono cose che sono al limite del delirio se ascoltate il discorso degli innamorati sono discorsi deliranti senza di te mi crolla il mondo non crolla il mondo senza di te Freud dice giustamente che l'innamoramento è un delirio che ha l'unico pregio di essere breve perché non dura un'eternità il dirio erotico non dura un'eternità perché non abbiamo la curiosità di andare in fondo alla nostra follia o non abbiamo il coraggio di andare in fondo alla nostra follia grazie all'aiuto dell'altro perché si potrebbe stare insieme tutta la vita se da un lato non ci si esponesse reciprocamente dicendosi dicendosi sempre la verità e qui non sto dicendo delle falsificazioni che bisogna ingannare l'altro ma c'è una dimensione monacos segreta unica dentro di noi magari ignota noi stessi onde evitare quella situazione per cui uno dei due come apre bocca l'altro sa già quello che deve dire lì è già tutto finito ormai allora bisogna mantenere una certa segretezza una certa riservatezza e che io penso che il pudore dicevamo prima non è una faccenda di veste sottoveste ma è anche una faccenda di mantenere una ipseità qualcosa di esclusivamente nostro che leghi l'altro a una ricerca continua cioè avere la sensazione di non esaurire mai l'altro a questo livello voi capite la la gravità di quelle trasmissioni televisive dove si invitano i ragazzi a tirar fuori le loro parti segrete intime amorose queste sono cose terrificanti perché quando io ti ho esteriorizzato alla tua intimità ti ho depsicologizzato ti ho deprivato dalla cosa più segreta e quindi sono cose peggiori della pornografia la pornografia non è così devastante come l'esteriorizzazione della propria intimità segreta dice Platone non siamo uomini noi ma siamo simboli di un uomo simbolo in Grecia quando due amici due innamorati due famiglie si lasciavano prendevano un piatto lo spezzavano in due ciascuna parte era il simbolo di che cosa di un'antica amicizia quando i due si fossero ritrovati anche dopo anni le due famiglie i due amici mettendo insieme questi questi due pezzi di piatto riformavano l'antica unità simbolo della loro amicizia simbolo vuol dire parte in greco la parte che ha bisogno dell'altra parte per acquistare senso è un piatto spezzato che ha bisogno della sua parte per fare unità noi eravamo interi dice Platone periferi circolari avevamo quattro braccia quattro gambe rotolavamo sulla terra generavamo con la terra ma Zeus temeva la potenza degli uomini i dei hanno sempre avuto paura degli uomini temeva la potenza degli uomini e decisi di tagliarli in due temnein eh tagliarli in due per cui ciascuno di noi è il simbolo di un uomo poi mandò a pollo perché lo spettacolo era spaventoso mandò a pollo a raccogliere la pelle di cui abbiamo memoria ancora nell'ombelico l'ombelico dove si è stata raccolta la pelle dopo la lacerazione dopo la lacerazione però ogni metà uomo ogni uomo cerca la sua metà corrispondente la sua parte corrispondente uomini con uomini donne con donne uomini con donne Platone non aveva i problemi che ci poniamo noi intorno all'omosessualità e cose di questo genere bassezza di questo genere bene ciascuna parte cerca l'altra parte e mediatore di questo è amore e in questa maniera e qual è la funzione finale d'amore dopo aver tradotto agli dèi il linguaggio degli uomini agli uomini interpretato quello degli dèi dopo aver messo ciascuno di noi in connessione con la nostra follia dopo averci consentito di scendere grazie all'altro e venirne fuori quello che c'è di definitivo è l'unità per cui l'amore fisico proprio la sessualità l'atto sessuale è l'uomo quello è l'uomo originario e in ogni atto sessuale quello che si cerca di fare dice Platone è quello di riguadagnare l'antica unità tentativo memoria e sconfitta perché poi dall'unione dei corpi i corpi si separano e ciascuno torna ad essere quell'individuo quel diviso quel separato e qui amore continua ad essere quel desiderio di ricomporre l'antica unità ma la condizione la visione tragica che ha la grecità giustamente dell'uomo il grande lacerato l'uomo è il lacerato i miti di Platone non sono delle fantasie sono delle condizioni umane lacerato che cerca di ricomporre la sua lacerazione con atti d'amore che però non sono la riproduzione dell'antica unità sono solamente dei tentativi sconfitti qui ci possiamo anche fermare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti